Fornire armi ai ribelli libici? Il presidente statunitense Barack Obama non esclude quest'ipotesi in un'intervista televisiva. Ipotesi che trova il favore della Francia. Cauti, Regno Unito e Italia, Roma la ritiene una misura estrema. Obama ha affermato che Gheddafi è fortemente indebolito e ha i giorni contati. È giusto affermare che se volessimo inviare armi in Libia, probabilmente potremmo farlo. Stiamo esaminando tutte le opzioni in questa fase, ma tenete a mente quello che abbiamo fatto. Abbiamo stabilito una zona di non sorvolo, che può essere mantenuta nel tempo, perché è un impegno internazionale. Gli attacchi andranno avanti fino alla caduta di Gheddafi, creato ufficialmente un gruppo di contatto. Queste le decisioni prese alla conferenza di Londra, ma la coalizione sembra divisa su alcuni punti. Esilio o no per il Raiz? Quanto alle armi ai ribelli, contrario, il segretario generale della Nato. La Nato ha deciso di partecipare all'applicazione dell'embargo delle armi. Siamo lì per proteggere i civili, non per armarli. Dopo due settimane di operazioni sotto mandato dell'ONU, la Nato ne prende il comando, oggi il passaggio del testimone. Da domani l'Alleanza Atlantica sarà totalmente responsabile della missione in Libia.